Diciamo che la base è la passione per il proprio lavoro, del piacere. Poi mano a mano le sviluppa. Io sono cresciuto professionalmente in un'azienda dello stesso settore, una bella azienda che era qua in zona e il vecchio titolare che mi ha insegnato sia il modo di lavorare sia il modo di porsi con le persone. Mano a mano ho imparato il lavoro. Il problema del gestire le persone è un po' seguirle, assecondarle. Io dico sempre che ci sono due modi per gestire un gruppo di lavoro o in maniera rigida o in maniera più familiare. Io sono convinto che nel lungo periodo paga di più l'ambiente familiare perché si crea un rapporto di collaborazione e di stimolo reciproco. Il settore remunerativo, diciamo che io quando ho iniziato a lavorare a fine anni 90 ho visto la fine del periodo buono di questo lavoro. Per vari motivi nel 2014 ho iniziato con la Termodolomiti che era uno dei periodi peggiori per il settore dell'edilizia. La fortuna è stata che avevo delle commesse importanti in vista e quindi sono riuscito a partire perché chiaramente un'azienda parte dall'avere il lavoro, tutto il resto gli si costruisce intorno. Una volta mi raccontavano che cantieri grossi, cantieri belli, importanti che venivano acquisiti festeggiavano, cioè facevano proprio una cena, un pranzo, un weekend addirittura qualcuno faceva. Oggi il sentimento quando si esce da un ufficio dopo aver acquisito un lavoro, anche magari bello, anche magari prestigioso, quando esco da lì guardo il collega e gli dico cavolo, adesso però dobbiamo farlo e riuscire a starci dentro. Quindi un giovane che vuole cominciare è un settore che deve piacere innanzitutto, ma come tutti i lavori. Non c'è una necessità specifica per fare questo lavoro. Come ogni lavoro bisogna crederci, bisogna volerlo fare e poi bene o male, io dico, stando attenti si riesce a farlo. Il problema del personale credo che sia l'altro grosso problema e l'altro grossa incognita di un'azienda perché ogni dipendente è una persona, è una persona che ha una sua storia, che ha delle sue passioni, che ha delle sue problematiche. Il motivare la gente, il far capire la difficoltà di un'azienda. Una volta, mediamente, due o tre richieste all'anno c'erano, c'erano i ragazzi che studiavano, che facevano le scuole professionali, che venivano a fare gli stagio e poi se si trovavano bene potevano rimanere, adesso non si trovano più. Vedo nel settore turistico, nel nostro settore, nel settore tecnico degli progettisti, una tendenza generale a non lavorare. Però confrontandomi con le varie realtà con cui veniamo a contatto, è un problema generale diffuso. È una delle incognite più grandi e più critiche da risolvere.